Si avvicina il giro di Boa per Pasquale Basile e la sua giunta e pare sia arrivato anche a Scalea il tempo del turnover. Il sindaco della città di Torre Talao avrebbe infatti già comunicato ai suoi assessori l'intenzione di ritirare e riassegnare le deleghe per consentire la rotazione, così come è avvenuto in altri comuni del comprensorio. La voce ha iniziato a circolare già nella tarda serata di venerdì, proprio subito dopo una riunione informale nel corso della quale il sindaco avrebbe comunicato che è arrivato il momento di riassegnare i compiti in seno alla giunta. Il provvedimento potrebbe rientrare in accordi pre-elettorali stipulati già prima dalla vittoria di marzo 2010, anche se in città si ipotizza un vero e proprio rimpasto. La solidità della maggioranza è stata più volte messa in discussione sia dai banchi dell'opposizione che da qualche voce fuori dal coro del Consiglio Comunale, anche se Basile, nei momenti cruciali, ha sempre incassato i voti dei suoi. Tra lo scetticismo di chi vedeva nel nuovo sindaco un uomo venuto dal nulla, Basile ha tenuto botta in una realtà politica che si è rivelata molto complessa tra debiti e situazioni contrattuali non limpidissime conditte di servizi. Ridistribuire le deleghe, soprattutto in presenza di uomini che già da dieci anni rivestono ruoli di spicco nel panorama politico cittadino e che potrebbero restare fuori dalla giunta, rappresenterebbe un'ulteriore prova di forza da parte del sindaco. Al contrario però questa scelta potrebbe acuire le presunte spaccature insieme alla squadra di governo rischiando di sfociare in una vera e propria crisi. Prima di questo passaggio, che sembra ormai evidente, Basile aveva ritirato la delega all'ambiente e all'assessore Acquaviva, tornato a sedere in consiglio solo nell'ultima seduta dopo un lungo periodo di pausa. Secondo le voci che circolano in città, Basile avrebbe già avviato i colloqui faccia a faccia con tutti i componenti della sua attuale squadra di governo. Presto se ne saprà di più.